Franco Fiorito, l'ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio e presidente della Commissione Bilancio, è stato indagato dalla Procura di Roma. L'ipotesi di reato è peculato. Secondo gli inquirenti, Fiorito avrebbe trasferito ingenti somme di denaro dalle casse del gruppo PDL a conti intestati a se stesso in istituti di credito spagnoli. Fiorito ha smentito le accuse, ma ha anche comunicato di essersi autosospeso dal partito. Decisione accolta subito dal segretario nazionale Angelino Alfano, che ha aggiunto in una nota, convocherò nei prossimi giorni i coordinatori regionali del Popolo della Libertà del Lazio per una valutazione sulla situazione politica regionale. E nella capitale la bufera che sta colpendo il PDL, pur per motivi diversi, ha investito anche il sindaco alemanno, che ha deciso di ritwittare un post di un fan che gli chiedeva, una volta finito a Roma, di venire a Torino a cacciare nomadi.